allora 452,68 diviso 564 diviso fratto fratto frago dunque no se io ricapitoliamo se no qua però c'è la percentuale che se io faccio allora se io porto 0,0 si l'idono se l'idono e cioè si elimina allora io avevo sempre bisogno di qualcuno che mi aiutasse con la matematica non sono mai stato capace con i compiti mamma mia sempre perché qua bisogna stare attenti con le spese costa sempre tutto tantissimo è l'acqua la luce il gas le multe le tasse a proposito di tasse è proprio periodo di IRPEF questo mamma mia la dichiarazione dei redditi come sarebbe bello se ci fosse un mondo dove non si pagano le tasse ecco dove niente costa niente e invece qua come ti muovi eppure ci sono delle cose che non costano niente e però fanno tanto bene no se per esempio incontriamo qualcuno nell'ascensore un bel buongiorno non costa niente eppure fa tanto bene un sorriso non costa niente fa tanto bene una carezza una pacca sulla spalla se è data piano non fa male fa solo bene ecco per esempio adesso che periodo di dichiarazione dei redditi c'è il 5 per mille e sarebbe lo 0,5 per cento che insomma il 5 per mille non costa niente ecco però invece di darlo allo stato lo dai a qualche associazione benefica che ne potrà avere tanto bisogno per esempio io ho deciso il mio 5 per mille quest'anno lo do alla casa della comunità speranza di mazzara del ballo che è un posto dove ci sono oltre 200 bambini adolescenti figli di immigrati di seconda di terza generazione e dove ci sono anche tanti operatori volontari che tu puoi aiutare puoi aiutare ad aiutare questi bambini nel loro percorso di crescita nella scuola nel gioco insomma nel processo di integrazione della società in cui si trovano ci sono anche quelli che danno le lezioni private per la matematica fai anche tu come me dai il tuo 5 per mille alla casa della comunità speranza di mazzara del ballo non costa niente è semplicissimo basta andare nella sezione della dichiarazione dei redditi dove c'è il 5 per mille e scrivere il codice fiscale che è 91029 4808 10 dedicato alla casa della comunità speranza di mazzara del ballo fai anche tu come me non costa niente scusa a proposito 458 mila diviso 4 e porto 9 porto no non porto non porto porto mmm